Il Brasile rafforza il controllo sui capitale all'estero con la voluntary disclosure e la dichiarazione CBE. Decreto sul distacco transnazionale alla luce del DL 136 2006 lo spiega l'avvocato Gabriele Fava. Crescono le politiche di segmentazione della popolazione spatriata i dati ECA International su un campione di oltre 300 aziende. Bentrovati a questa nuova edizione di ECA Italia News. In apertura andiamo in Brasile. Il Paese ha rafforzato il controllo sulla movimentazione di capitali all'estero prevedendo un'apposita procedura di voluntary disclosure per i fondi detenuti in altri Paesi e non dichiarati ed un'apposita dichiarazione corrispondente al nostro quadro RW, chiamata CBE. I contribuenti obbligati a trasmetterla sono persone fisiche, società, residenti, domiciliate o con sede legale in Brasile che detengano valuta, assets o diritti di qualsiasi natura il cui valore totale sia uguale o superiore a 100 mila dollari americani, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione o 100 milioni di dollari americani. E parliamo ora del decreto sul distacco transnazionale alla luce del DL 136 2006. Quali sono i principali aspetti che le imprese italiane devono tenere in considerazione? A spiegarcelo l'avvocato Gabriele Fava, managing partner dello studio Fava e associati. Sentiamo. Questo decreto applica a tutti i lavoratori distaccati, infra-wee ed extra-wee, la parità di trattamento nel caso in cui vengano distaccati ad esempio in Italia e quindi il miglior trattamento che gode il dipendente italiano deve essere applicato alla stessa stregua al lavoratore distaccato, sia che si parli di un lavoratore infra-wee ed extra-wee. Questo è fondamentale ed è un po' il fil rouge che ha permeato questa normativa che va incontro al parità di trattamento retributivo e lavorativo di tutti i lavoratori distaccati. Le politiche di segmentazione della popolazione espatriata con relativa ricaduta sui piani retributivi di espatrio continuano ad essere in crescita. È quanto emerge dalle più recenti rivelazioni realizzate da HEC International su un campione internazionale composto da oltre 300 aziende. Quasi il 27% delle aziende ha segmentato la popolazione espatriati e la maggior propensione è propria delle aziende con headquarter in Asia. Prima fra tutte Singapore, seguita da Hong Kong e Malaysia, l'area tecnica di HEC Italia conferma che anche le direzioni HR italiane iniziano a muoversi in questa direzione. Nel 2017 sono stati ben sei gli interventi di HEC Italia su altrettante multinazionali italiane che hanno deciso di attivare un piano di segmentazione della popolazione espatriata. E in chiusura annunciamo l'avvio sul nostro blog www.distaccoestero.com di una nuova rubrica, la barberia di HEC Italia, un piccolo spazio e un breve tempo di riflessione su vari temi, dalle dinamiche macroeconomiche alle curiosità fiscali, dalle tendenze nel mondo del lavoro alle novità sugli expat. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima puntata.